Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio XE sulle intenzioni di voto sulle elezioni regionali che si svolgeranno il 26 di gennaio in Emilia Romagna. E vediamo che in testa, secondo XE, c'è Stefano Bonaccini del centro-sinistra con il 47,2%. Poi segue Lucia Borgonzoni del centro-destra con il 40,1%. Poi c'è Simone Benini del Movimento 5 Stelle alla 7,8%, altri candidati al 4,9%. Quindi secondo XE Bonaccini avrebbe 7,1% di vantaggio sulla candidata del centro-destra. Gli indecisi sarebbero circa il 25%, ma guardiamo i partiti nel dettaglio. Il Partito Democratico sarebbe al 29,4%, in callo dalle europee del 26 maggio perché era al 31,2%. Lista Bonaccini, presidente, liste civiche 7,8%. Altre liste del centro-sinistra 6,8% per un totale del 44%, in crescita rispetto alle europee che erano al 39,6%. Quindi questo è solo i voti ai partiti, non ai presidenti. Poi vediamo nel centro-destra abbiamo la Lega di Salvini il 27,8% in discesa perché era al 33,8% alle europee. Fratelli d'Italia al 7,9% in salita perché era al 4,7%. Forza Italia al 4,2% in discesa era al 5,9%. Altre liste di centro-destra 2%, totale centro-destra 41,9% in discesa era al 44,4% alle europee. Movimento 5 Stelle all'8,8% in discesa era al 12,9% alle europee. altri partiti 5,3% in salita erano alla 3,1%. Quindi secondo XE centrodestra è comunque in svantaggio sia con i partiti sia con i candidati presidenti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia Notizie dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buono proseguimento di giornata. Arrivederci.